Oh cazzo, ma è 5 di 1 Ho un berda Plotino 2 No, no Stanno entrando Ma cos'è, una libera? No È una rank Scuto, lo prendo No, adesso No, prima no, no Non facciamo i marci, dai Mi è una domanda, scusa, ma Se Jäger c'è lo scudo in testa Perché deve guardare il filo spinato? Cioè, o il filo spinato e lo scudo Non puoi avere entrambi No, io dicevo Clash deve avere il filo spinato Ah Per Jäger devi mettere lo scudo e ripiazzarlo È buono Cioè, basta, ce l'hai già in testa No, devi premere dei tasti, però Cioè, fa schifo Tutti quei trucchi di GTA hanno messo su Rainbow, praticamente Se pensa del king invisibile, ti giuro Cioè Sto già veramente di merda Solo al pensiero che possa esistere Che possa trovare una porcheria del genere Ma è che Non è facile da fare Quindi, se sei forte, sali Se no, no Ma vaffanculo Cioè Vabbè, non riesco a fare quel drone C'è il drone di Twitch Sì, ma Ma l'ha fatto? Neanche doppio, immagino No, 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 no L'ha fatto un casino, ha fatto Cioè? Ha distrutto il muro Per cercare di trovare il drone di Twitch Ma lo vuol tenere Ah, ok Lo teniamo aperto Scusa Dottore ZL Dezzi No Ma ha fatto un buco di minchia Mi sa che è solo un coglione Il nemico ha intiudato il contenitore di Diorizio Allora, se questo muore a caso Non devi dire niente Lo sai già Tu lo sai già Così Se muori a caso Sai già perché sei morto a caso Che sono un coglione Drone nemico in posizione per la scansione Raffio del timer Io non l'ho visto Ah, sei morto a caso Sai che c'è uno blu Zofia da bar Era già sceso Merda Ma era che è dormita L'avevo sentito ma Qua si è fatto a fare assist Che non è anche sparato Ma Caveira c'ha C'ha il C'ha l'olio nel pad Che è me? Ma sì che era invisibile Ma era invisibile No, non penso Non si vede così Sei invisibile Boh, sei tale esperto No, non si vede così Si vede lo spawn Ah, ok Beh, ho detto un IQ Io dopo glitcho con Clash Non posso permettere di perderlo Ah, vabbè Dovete trovare il contenitore di biorischio Ma molto latte Cioè è un bargain Io avevo sentito che il nemico era in scale blu Solo che avevo mirato in alto Invece era già sceso Ma non l'avevo visto Non l'ho proprio visto Quindi Vabbè Ma che salto era Cioè ha provato X per saltare col drone No, ha glitchato Ha fatto il glitch di Dai mamma Ma ci sono troppi glitch adesso No, cazzo Lo fa anche Jäger Lo fa anche Jäger Oh merda Scusa non andar là perché ti spawn trappa Clash Eh, c'ha lo scudo in faccia Quindi non puoi prenderlo Ma là dove, scusa Dalla solita finestra dove spawn trappa Eh Eh, io come faccio, scusa Eh, non fai Chi sei Eh, sto moremi Mi sta sparà Sono termite Cioè lui lì ha lo scudo Spiegami un attimo Ha lo scudo, putt'a Ha lo scudo ma ti spara attraverso È come montagna una volta Mmm Beh, interessa Interessante C'è anche Jäger con lo scudo in testa Eh, te lo ho detto Sì, ma No, no, è Rook Non è Jäger Come Rook Come Rook con lo scudo in testa Ha il 5 di vita Ah, ma posso sparare Bravo Bravo Ibana Brava Ibana Ma vaffanculo Abbiamo Ho sparato Sono riuscito a danneggiare un po' a Clash Ma poi si è girato Sì, ma Che palle Invece anche i nostri compagni Non sono proprio delle cime Dove facciamo una stagia Sì, ma il problema è che hanno introdotto stiglici Guarda, guarda, guarda Jäger con lo scudo in testa Anche Rook ha lo scudo in testa Ah, Jäger non è morto Ah, l'ha messo a terra Non l'ha ucciso Palle Che cazzo fai? Cosa scendi? Tira la biche A me non ammazzi il cadavere O forse aveva A me non ho visto Uno aveva lo scudo in testa Di che sound? Rook ha lo scudo in testa si è tirato su Roptokie eh trombola che cazzo fa? ahhh scopa Ace ce l'hai lì si ma non ma è ingiocabile sto gioco guarda 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 madonna ti bag usa i glitch e ti bag sto mi sento male c'ho una carenza c'ho un mancamento ah fai il glitch di clash visto che lo sai fare che mi devi dire però se funziona? eh vabbè il problema è che tipo noi prima l'abbiamo uccisa perché cioè devi stare attaccato al muro eh cioè devi stare attaccato al muro io sono di attivo te infatti guarda 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 DOKIEG ah no non fanno pensavo poi avesse preso lo scudo invece non l'hanno preso ma come mi ricordo in realtà la bagaglia là io te lo stagio e praticamente Amir è al centro e poi c'è lo scudo ha funzionato? no non ho scudo in faccia dove sei? no ora ora ci metto un po' io perché non so un po' il matt è un big glitch ora sei sicuro che funzioni così? si dispositivo attivato ancora 10 secondi ora c'è sempre una schien 5 secondi ora adesso si ce l'hai davanti sto di merda eh non ho messo i capcan questa cagata c'è cagato il capo cioè mi è comodo per vincere ah è il giorno d'oggi si questo è R6 in 2k 19 era meglio nel 2016 oh merda l'hanno pushato sono già qua merda eh dove ora stavo ricaricando c'è uno lì dal tavolo ascio ma guarda che schifez oh merda oh caa che schifo da dove? eh c'avevi dietro mi so non ho glicciato dallo spawn muglat ma veramente no c'è il più invisibile si no no eh eh come fa? com'è possibile? no vabbè no 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 guarda qua guarda che schifo no no io non ce la faccio no ho aperta no 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 ma vedi ma come si fa a vincere? non si può c'è un glitch combatte l'altro c'è non puoi non puoi far nulla c'è se tu hai nel team uno che sa fare il glitch dai Q hai vinto c'è che schifo però c'è diven- si ma che gioco del cazzo c'è o forse DT ce ce lo regala sto cazzo di glitch ah se lo sa fare la claymore l'ha presa poi non so c'è qui non vince che è più bravo si esatto vince chi sa usare meglio i glitch poi ci sarà clash con lo scudo bugato come avevi te poi ci sarà Jäger e Rook con lo scudo in testa così non gli puoi fare one tap ci sarà cavera che è lui se vuoi farne lui che gioca legit che gioca legit vabbè l'ostaggio non sono così cancro così ci regaliamo un altro glitch quello della vittoria no il problema non è la difesa Qzza e invece si Qzza eh noi in difesa facciamo quelli glitch lì eh voglio vedere eh ma non funziona funzionerà perchè le ultime volte non è andata molto bene clash sto facendo il glitch te la butto lì gli altri non li ho visti ho visto che c'è Vigil eh secondo ah se vince ma il Ql ce l'ha fatta no no si mette un po' eh ci sta provando si sta provando ma è impossibile quel glitch è difficilissimo da fare ti prego ti prego Dizzy Dizzy Junior lontani dall'esplosione no non ce l'ha fatta è uscito Jager non ce l'ha fatta adesso eh ma è difficile ti ho detto e gli ho fatto di no con la testa adesso è tornata indietro lo sta riprovando però c'è non possiamo usare tutto si adesso arrivo proviamo vediamo che cazzo si può fare anche se non penso che riusciremo a fare qualcosa Rainbow lo schifo di Rainbow 60 pages cazzo si è buttato giù dal testo è morto clash cozza non lo so si si te lo dico io dai c'è ah è un mostro è muglatte scopato pure a me boh che schifo ci hanno unito ci hanno unito tutti i glitch del mondo in uno ha creato ha creato il periodo più glitchato che avevo mai visto su Rainbow 60 qual cosa aveva? guarda che sale nel tetto oh merda no non ha la buce non è abbastanza godo godo come un maiale come un ricincalore si ma ammazzalo però dove mi chiede se abbiamo voglia di giocare a tempo digli digli di no non lo so c'è guarda che gioco è c'è un altro gioco gioco paranormale c'hai fantasmi di IQ che t'ammazzo c'hai più una nuova abilità perchè l'hanno potenzia ma di tu guadagnire vieni cioè a me manca un 5 punti attacchi a 2 abbiamo perso questa qui perchè gliciavano a merda e niente dici se vuoi avvenire che abbia finito poi in questo momento spero che ci trova fuori dal culo si è il pompa di El arriva così lontano vorrei dare un complimento a Muglat che forse era l'unico forte lì in mezzo si che era l'unico che glicciava ah è lui che glicciava si si l'ultimo round ho giocato legit era forte lo stesso meno 22 meno 26 ok ciao